Non me lo dire, farai Rosalinda. Esatto! Gravo! È impressionante, è fatto! Ma guarda la roba... Brava lei! Ma è allucinante! Ilenia, Ilenia è bravissima, la mia truccatrice. Le sopracciglia arriveranno alla fine del programma? Chi lo sa, chi lo sa, ho paura! Speriamo! Appassionati di gossip e tv, bentornati nel mio canale. È ricominciata la nuova edizione di Tale e Quale Show, stessa giuria ma ovviamente nuovi cantanti. Fra loro anche Rosalinda Cannavò, che accompagnata dal fidanzato Andrea Zenga, che era tra il pubblico a supportarla, ha vestito i panni della rappresentante di lista cantando Ciao Ciao, brano portato a successo all'ultima edizione di Sanremo. Rosalinda se l'è cavata decisamente bene, superando anche le difficoltà di doversi esibire per prima. La reazione della giuria è stata piuttosto positiva, anche se Panariello si è soffermato più sul passaggio dal nome d'arte Adua del Vesco a Rosalinda Cannavò, dimostrando forse di non conoscere molto bene i partecipanti. Qualche critica da parte di Malgioglio, questa sera nei panni della cattivissima regina di cuori. Oltre a Rosalinda, il cast di quest'anno vede in gara anche Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Samira Lui, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gir Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco Palaontoni. E voi che ne pensate della prima esibizione di Rosalinda a tale quale show? Fatemi sapere se vi è piaciuta o se avete preferito altre esibizioni. Al prossimo video, ciao!